Ciao a tutti, siamo qua alla fiera in Bologna e presentiamo due nuovi prodotti. Uno è il Brutus Combo e l'altra è la Imperium Luxury, versione 60W e 120W. Le caratteristiche che evidenziano questo tipo di prodotto sono sostanzialmente la possibilità di avere dei suoni pronti, istantanei, 8 suoni diversi che spaziano dal canale clean per l'arpeggio fino ad arrivare ai canali veramente high lead con altissimo guadagno, molto dedicati per sonorità di tipo EV metal. Brutus Combo è un amplificatore classico rock. Le caratteristiche particolari di questo oggetto è che per utilizzo casalingo impiega un power brake interno, un power load, un carico, un attenuatore che permette alla massima potenza di poter sviluppare solamente un watt. Questo fa beneficiare del tocco, al tocco della mano, quindi dinamica e un suono esattamente come quando l'amplificatore è veramente in tiro.